Ciao ai lettori di Leggo. Kabilame classe 2000 è nato in Senegal ma vive a Chivasso dall'età di un anno. Rimasto in cassa integrazione durante il lockdown, ha iniziato a realizzare video esilaranti su TikTok. Oggi è l'italiano più seguito su Instagram e con oltre 84 milioni di follower è il secondo TikToker al mondo. Sono molto orgoglioso di questo però sinceramente non mi sono mai basato sulle classifiche, non ho molto interesse in quello. Comunque ringrazio i miei follower, ringrazio tutto però a me piace fare video, prima di tutto mi diverto io e faccio divertire gli altri e per me mi basta quello. A quali artisti ti ispiri? Mi ispiro a Will Smith che è il mio attore, che mi ispiro fin da bambino e spero di diventare un giorno come lui. Cresciuto nelle case popolari di Chivasso lo spettacolo era solo un sogno, poi il boom tre mesi fa. La vita è un po' cambiata, vedo poco la famiglia, vedo poco gli amici, sono sempre in giro per fare interviste, per lavorare. Infatti sono più a Milano che dove abito, però alla fine la vivo tranquilla, dai. E dopo aver raggiunto la vetta dei social qualcosa di nuovo bolle in pentola. Non ti spoilerò niente però ti dico solo che sto studiando recitazione e niente, ti dico solo questo. Uh! No! Grazie a tutti.